De Angelis una vittoria di tutto cuore ma anche di tutto prestigio contro la seconda forza del campionato sconfitta numero 3 per i pescaresi oggi qui a Sulmona ma è stato un Sulmona che ha lottato su tutti i palloni e che ha veramente lottato fino alla fine portando a casa due punti che magari alla vigilia non erano preventivati però ci si prova e quando le prove sono incoraggianti come quella odierna non c'è che da applaudire a questa squadra Allora oggi è stata la classica partita post feste quindi un po' giocatori arrugginiti soprattutto sotto il profilo agonistico ma anche il ritmo partita si perde purtroppo a questi livelli dopo 20 giorni diciamo di inattività agonistica perché poi gli allenamenti sono stati portati regolarmente per quanto riguarda la partita in sé quindi la partita non è stata bella tecnicamente è stata sicuramente molto intensa la vittoria inaspettata sì perché giochiamo con la seconda in classifica ma anche all'andata quando abbiamo perso i 10 punti lì noi siamo stati in partita fino a 3 minuti alla fine quindi posso dire il valore dei giocatori sicuramente è più alto per loro ma per quanto riguarda poi in campo abbiamo dimostrato che possiamo comunque stare a giocarla fino a 3 minuti alla fine possiamo giocare oggi è andata bene all'andata abbiamo perso noi Un Pescara che si era riportato veramente a pochissimo a meno 3 a meno 2 ha temuto per qualche istante di non farcela? Devo dire che la palestra è bella per questo gli ultimi possessi sono stati importanti secondo me ci ha premiato un po' la determinazione che abbiamo messo in campo noi perché da parte loro ho visto molta stanchezza sinceramente quindi la differenza sì l'ha fatta il possesso ma la determinazione con cui abbiamo giocato gli ultimi palloni A nostro avviso oggi è andato bene più del solito Mastro Domenico i primi 8 punti del match hanno portato tutti la sua firma un Mastro Domenico che sotto canestro ha dato oggi il suo validissimo contributo Sono contento per lui sono contento per lui io devo sempre guardare la squadra lavoriamo su tutti i giocatori che abbiamo a disposizione oggi è stata un po' la sua giornata che ci ha dimostrato comunque ha delle qualità però questo sport è bello perché si gioca di squadra e se tutti e 5 con la panchia tutti e 10 siamo pronti ad andare con determinazione in campo le partite si vincono Terza vittoria consecutiva magari non fermarsi sarebbe l'ideale adesso? Ecco domenica prossima ci aspetta Teramo una squadra ampiamente non alla nostra portata voglio dire nel senso che è una squadra organico nettamente superiore però non sta facendo un bel campionato devo dire che prima della sosta natalizia stava recuperando abbastanza bene probabilmente gli ingranaggi cominciavano a girare speriamo che la sosta anche a loro abbia procurato qualche problemino Antonio Stilla tanta fisicità sotto canestro a parte tua però il tuo contributo non è bastato al Pescara Basket che oggi a Sulmona ha rimediato la terza sconfitta stagionale al termine di un match a nostro parere è magari un po' sottotono a parte la seconda forza del campionato Sì innanzitutto complimenti a Sulmona perché ha fatto una bella partita poi noi veniamo da una settimana in cui ci siamo allenati sempre in 5 Nicola Cantatore non sta giocando in salenando da un mese Daniele Dirgiorgio due mesi con il gesso in più oggi abbiamo avuto un po' di problemini anche fisici noi prima della partita quindi pazienza, questo non significa che complimenti a Sulmona Grazie! 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 Grazie!